Questo video non parla di arte, quindi se non ti interessa l'argomento ti prego di switchare. Mi scuso inoltre con tutti gli utenti dei miei profili perché siete abituati a sentirmi parlare di altro, ma oggi voglio usare questo spazio per un mio bisogno personale, perché imbraccio le mie piccole battaglie e le voglio portare in fondo fino alla fine. Da oggi in poi però poi non parlerò più di Sanremo, di Chiara Ferragni, di Amadeus Prometto. Prometto. Oggi ho proprio un messaggio per Chiara Ferragni e per Amadeus per esprimere il mio disappunto su quello che si è consumato sul palco di Sanremo. Il mio non è un rosicare, o meglio, è lo stesso rosicare che prova la persona che ha aspettato alla posta tre ore che venga il suo turno, poi esce il direttore, vede un suo amico e gli apre una cassa a parte per fargli esperire le sue necessità. O lo stesso disappunto che prova un giovane che si presenza speranzoso a un colloquio di lavoro dopo aver studiato anni ed anni, esce il dirigente, vede un suo collega di università e solo perché gli sta simpatico lo assume senza neanche guardare il curriculum. Questo è il disappunto che ho provato quando tu, Chiara, hai aperto il profilo ad Amadeus che io stimo professionalmente e come professionalmente stimavo anche te. Tu che hai portato avanti la nostra battaglia, identificando come un mestiere il nostro stare sul web. Tu che hai fatto da nave apri strada molte persone che hanno voluto imbracciare questo lavoro e che hai sempre detto che è un lavoro duro, fatto di sacrifici, fatto di lavoro. Io da 13 anni sto sul web con le mie competenze, le mie professionalità, giorno per giorno, spese per crearmi una nicchia, un piccolo spazio per esercitare il mio lavoro, la mia professione. E ci sono riuscita. E come me tantissime persone lavorano sul web e sentono bisfrattare il loro lavoro riducendolo a uno stare sul web, a sollazzarsi, a divertirsi, quando tutti noi paghiamo le tasse, quando tutti noi portiamo avanti questo lavoro, perché ragazzi che vi piaccia o no, questa è una professione, con serietà, costanza, sacrificio, professionalità. Non si può aprire un profilo Instagram su un palco di Sanremo e far traslare persone sull'onda emotiva perché partecipi di un momento da un profilo all'altro perché questa è una transazione economica vera e propria. Il profilo di Amadeus fatturerà tantissimo da oggi in poi e noi tutti siamo rimasti lì a guardare con le nostre professionalità spese quotidianamente che hanno portato a frutti. Ma certo, non a profili da un milione e 800 mila follower in un attimo. E questo non è giusto, signori miei. Continuo nella parte 2. Ho dovuto attendere un po' qualche giorno prima di fare questo video perché ho dovuto proprio metabolizzare quello che avevo visto. In un attimo siamo stati superati tutti dal primo all'ultimo, da quello che ha 20 follower e da 3 mesi prova a farsi strada a quello che ne ha un milione fatti con 10 anni di esperienza, come Gianni Morandi ha sottolineato più e più volte. Io non sono contro Amadeus, badate bene, e sono contro il comportamento di chi arriva a una posizione importante grazie alle sue forze e alla sua fatica e si dimentica tutto quello che c'è stato prima e regala una posizione ad un altro senza nessun merito. Non che Amadeus non abbia un merito. Amadeus aveva il suo profilo Instagram da 600 mila follower ed era il suo profilo guadagnato. Quello con un milione e 800 mila follower che oggi fatturerà un bel po' di soldi, ci sono molti articoli sul web a cui potete fare riferimento, non è un profilo guadagnato, è un profilo nato da un'onda emotiva, ma è soprattutto un profilo che svilisce la professionalità di tutti noi. Noi siamo dei professionisti, noi paghiamo le tasse, noi lavoriamo sul web e non è giusto che arrivi un profilo nato così exabrutto in un attimo perché una persona ci dice di scriversi, chiunque sia quella persona. Poiché la gente l'abbia fatto sull'onda emotiva, quello è ovvio, volevano partecipare ad un Sanremo e l'hanno fatto in quella maniera. Ma ora dovrebbe essere Amadeus a chiudere quel profilo, ringraziando per l'attestazione di stima e di conforto in quel frangente, chiudendo un profilo che non ha contenuti, perché di questo si tratta. È un profilo che è nato da vuoto, non ha dato nulla per avere quello in cambio, se non l'amicizia con Chiara Ferragni. Passa in prima serata, sulla RAI, il concetto che basta conoscere qualcuno di importante per posizionarsi nella vita. Passa il concetto di raccomandazione e questo non è giusto per noi che facciamo questo lavoro e per i ragazzi che vedono questo. Io sono certa che loro lo abbiano fatto per gioco, inconsapevolmente, ma stringendo quelle che sono le maglie del discorso, questo è e non è giusto secondo me. Quindi, per favore, pensateci e quando si hanno dei grandi poteri si hanno anche delle grandi responsabilità, non solo nei confronti di se stessi, ma anche nei confronti di tutti gli altri. La nostra è una professione che va rispettata, specialmente da chi è l'emblema di questa professione. Arrivederci. Giusto un po' scrittum. Questa critica viene anche, non soltanto da una professionista che lavora sul web, ma da una di quelle professioniste, come la maggior parte, come quasi tutti noi che lavoriamo, lo sappiamo bene, ci viene sempre aditato il fatto di dover fare enormi disclaimer, di dover dire la provenienza di tutto ciò che mostriamo, se ci è stato regalato, se abbiamo acquistato, dove la nostra parola viene giustamente sempre messa in dubbio e viene sempre quel dubitare su quello di cui stiamo parlando è frutto del nostro pensiero o frutto di un'operazione di marketing. E io parlo di arte sul web, quindi non sono minimamente intaccata dalla presenza, non lo sarei nemmeno se parlasse di arte, ma non sono minimamente intaccata dalla presenza di Amadeus sul circuito del web. Il mio è un discorso di concetto, di ideologia, di giustizia. Come non è giusto acquistare i follower, come si fanno grandi battaglie contro coloro che acquistano i pacchetti di follower, indicandoli come una vera e propria truffa. Come non è giusto parlare di prodotti senza che ci sia un disclaimer che dica che è uno sponsor, altrettanto non è giusto far nascere profili che creano un mercato e che comunque creano un giro di soldi bello e imponente così, sull'onda emotiva e soprattutto, a maggior ragione, svilendo le professionalità di chi da anni lavora sul web. Da questo momento vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio se porgerete questo mio pensare ai protagonisti del mio messaggio, me ne sarei davvero grata e non parlerò più di questa faccenda. Io ammiro la signora Ferragni come imprenditrice. Devo dire, mi è un po' scesa dopo questo piccolo gap, però come imprenditrice, come colei che ha fatto un mestiere riconosciuto il nostro lavoro, la ammiro e le sarò sempre grata. Amadeus, sono sempre stata una tua grande fan, mi piacerebbe che tu chiudessi il profilo e ritornassi sul tuo profilo con Giovanna e magari chi ti ama davvero ti seguirà anche da quella parte. Un grande bacio, scusatemi se vi ho rubato del tempo, da Umbretta e da Arte per te è tutto, da adesso si ritorna a parlare di arte. Ciao!